Se hai un'età compresa fra i 18 e 59 anni, non devi attendere servizi sociali, a meno che non sei in fragilità e quindi puoi essere presa a carico dei servizi sociali. Se non puoi essere presa a carico dei servizi sociali, se sei iscritta comunque al programma Goal, eccetera, eccetera, devi presentare, se hai preso nel 2023 7 mensilità di reddito di cittadinanza, non ne prendi più. Devi presentare formazione e lavoro 350 euro al mese. Vai sul portale IMSS oppure vai in un patronato, presenti la domanda formazione e lavoro 350 euro al mese, inserisci tre agenzie interinali dove ti sei iscritto e attendi che saranno forniti quelli che possono essere corsi di formazione o introduzione al lavoro. Io ti consiglio nel caso in cui tu non dovessi essere pratico o pratica dei servizi tecnologici di appoggiarti a un patronato per poterti far seguire, non andare al CAF perché i CAF non sono abilitati fino al 1 gennaio 2024 per questa domanda. Per le vostre domande, bonus formazione e lavoro, reddito di cittadinanza, eccetera, scrivetemi che vi rispondo.